Cari soci della nostra società, colleghe e colleghi, siamo a Bari, all'hotel Nicolaus, dove dal 23 al 26 ottobre prossimo si svolgerà il nostro congresso nazionale. Il programma scientifico sta andando verso una fase di completamento, è molto interessante dal punto di vista dei contenuti e dell'autorevolezza dei relatori e il congresso si arricchisce anche di diversi eventi societari che sono sicuramente di grande attrattiva e grande interesse. Valorizzazione delle ricerche e degli studi fatti dai giovani colleghi, sessioni intersocietarie con diverse società con cui abbiamo dei progetti comuni, gli abstract arrivati finora sono quasi 300 a riprova dell'interesse delle tre tematiche del congresso che vi ricordo sono dolore e disabilità, medicina e riabilitativa dallo spadale al territorio e tecnologie, nuove tecnologie in medicina fisica e riabilitativa. Siamo certi che questi tre temi esauriranno le vostre aspettative e quindi vi aspettiamo tutti a nome dell'ufficio di presidenza, del presidente del congresso Pietro Fiore e del gruppo regionale Simfer Puglia che sta dando un contributo essenziale a questo evento, vi aspettiamo numerosi qui a Bari 23-26 ottobre. Grazie a tutti.